Verrà interrogato lunedì mattina Aldo Rodolfo Dinunzio dal GIP Massimo Canosa, il vigile del fuoco in pensione, 71 anni, arrestato ieri dal nucleo operativo dei Carabinieri di Lanciano, comandato dal Maggiore Giuseppe Nestola, con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e rinchiuso nel carcere di Villa Stanazzo. Non sarebbe stato un suicidio quello di Anna Maria Deliseo il 15 luglio del 2022, ma a torglierle la vita sarebbe stato il marito, proprio lui, che chiamò i soccorsi dicendo di aver trovato la moglie priva di vita nel garage e parlò subito di suicidio, una versione che non ha mai convinto gli inquirenti. Le indagini sono andate avanti e ieri la svolta. Il GIP Massimo Canosa ha accolto la richiesta di custodia cautelare firmata dal procuratore capo Mirvana Di Serio, ad incastrare Dinunzio nuovi elementi tecnici, tra cui registrazioni audio-video di una telecamera di sorveglianza. Questa mattina in carcere Dinunzio ha incontrato l'avvocato Silvia De Santis del Foro dell'Aquila. Anna Maria Deliseo aveva 60 anni, era una collaboratrice scolastica e tutti la ricordano come persona dolce e gentile.